Sergio Mattarella è il nuovo Presidente della Repubblica. Beppe Grillo ha dichiarato per noi una discreta vittoria. Cosa significa? Significa che quantomeno è una persona che ha una storia importante alle spalle, sicuramente ha rappresentato negli anni che sono stati una lotta vera e concreta verso la mafia e verso altre situazioni di grande malessere che ha vissuto l'Italia, quindi una figura sicuramente importante. Dall'altra parte però rappresenta anche una continuità con quello che è stato rappresentato in questi ultimi mesi dal patto del Nazareno, non più di qualche settimana fa, verso fine anno Silvio Berlusconi indicava tra le persone indicate, proprio su Mattarella come un candidato ideale, quindi la convergenza con il PD su questo nome non stupisce particolarmente. Tutte le scene che sono state fatte nei giorni antecedenti alla votazione, a mio modo di vedere, suonano un po' da pantomima più che da reale problema. Quindi le 105 scade bianche non sono quelle di Forza Italia? Il segreto dell'urna è impenetrabile, però sicuramente secondo me non vengono dette cose a caso. Se verso fine dicembre veniva indicato questo nome proprio da Silvio Berlusconi, incredibilmente Renzi due settimane fa conosce questa persona e ne viene folgorato incredibilmente. Io per carità non voglio fare nessun tipo di etrologia, però altrettanto non credo per l'elezione rappresenta la Repubblica un ruolo così importante nella casualità.